Una mostra per raccontare padre Cesare Mazzolari, con Boniano che ha amato l'Africa e in particolare il Sud Sudan, terra in cui milioni di persone hanno bisogno di assistenza alimentare. Di origine bresciana, Mazzolari ha vissuto a fianco del popolo sudanese nei momenti più difficili della guerra civile. Questa mostra abbiamo desiderato a cinque anni dalla morte di Monsignor Cesare Mazzolari racchiudere un po' tutto quello che è il suo percorso di vita, quindi non solo la sua vocazione, il suo amore per l'Africa e per le missioni che lo ha avvicinato appunto alla congregazione con Boniana, ma poi anche tutto quello che è la sua opera per il Sud Sudan a livello pastorale, a livello educativo, a livello sanitario e umanitario. Ecco, proprio per il Sud Sudan lui è stato considerato un po' uno dei padri fondatori. È morto il 16 luglio 2011 e una settimana prima lui aveva visto il suo popolo, così lo chiamava, raggiungere l'indipendenza dal nord, dal governo di Khartoum. Questo per lui è stato un grande traguardo e purtroppo non ha potuto, diciamo così, godere poi del passo successivo perché appunto è morto prima. Nella mostra allestita nella chiesa di Santa Maria in Chiavica in centro a Verona emerge il profilo biografico di un uomo e di un pastore che ha speso con amore la sua vita per gli altri e per Cristo, convinto sostenitore dell'educazione come mezzo di evangelizzazione. Il titolo stesso di questa mostra, Persona per gli altri, l'uomo, il missionario, il pastore degli ultimi, ha voluto proprio mettere l'accento su questa cosa qui. Un uomo che non si è mai stancato di aiutare gli ultimi bisognosi di vivere al loro fianco perché l'icona stessa che simboleggia questa mostra rappresenta il suo ufficio ed è semplicemente un tavolo in mezzo alle capanne, in mezzo alla gente. Quello era il suo ufficio. Adesso la Fondazione Cesar cosa sta facendo? La Fondazione Cesar già dal 2000 sosteneva i progetti di sviluppo in Sud Sudan insieme a Padre Cesare. Dopo la sua morte ha continuato tutta quest'opera sostenendo la pastorale della diocesi di Rumbek, che attualmente purtroppo è ancora senza vescovo, sostenendo però anche i progetti educativi che sono quelli più importanti fondati da Padre Cesare, oltre a un centinaio di scuole elementari, scuole superiori femminili, che insomma in Sud Sudan sono un passo avanti nell'emancipazione femminile e poi non da ultimo un traguardo importante che è la prima scuola di formazione per insegnanti di tutto il Sud Sudan, fondata nella missione di Chuibet nella diocesi di Rumbek. La Fondazione Cesar